Ma su Marte esisterà la sveglia? Che invenzione infernale! Spostiamo di un'ora? No! Spengo la sveglia insieme al mio cervello rettiliano che mi tratterrebbe qui a letto fino alla prossima era glaciale. Caffè superforte! Borraccia presa o corrente preso? Go! Bondi, allora alle 10 al cancello? Io arrivo, sto per strada. Hey guys, I'm coming! Io porto i guanti, eh? Oh ragazzi, dai e tutta, con l'evento dobbiamo sensibilizzare il più possibile. Ragazzi, sto arrivando! Io porto le buste, ok? Pronti per il clean up? Il problema del littering va ben oltre lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto un problema sociale. Innescare domande, favorire riflessioni ed evitare il rischio di abitare in una società statica passivamente. E pensare che qualche ora fa tutto questo mi sembrava pura follia. Dal calduccio della mia comfort zone intrappolata in un morbido piumone color pigrizia. Conteggio rifiuti, chiusura sacchi, ricerca bidoni, pulizia mani e next stop, barretto di fiducia. Meritato relax, un bel drink con frutta fresca di stagione, parole, racconti risate e nuove idee a cui dare un nome. Grazie a tutti!